Nata con lo scopo di vivacizzare Arcisate, l'associazione giovanile Arcipicchia sembra collezionare un successo dietro l'altro. Un esempio, il weekend scorso la Sala Biati del Paese ha ospitato una mostra a concorso dove sette giovani artisti dai 16 ai 36 anni hanno osposto le loro opere. C'è un po' di tutto, anche perché il tema era l'animazione, dunque racchiudeva in gran parte tante espressioni d'arte. Abbiamo acrilici su legno, acrilici con olio, abbiamo terracotta, racu e anche fotografia su lucido. Gli artisti sono un po' sbizzarreti in tutto ed è venuta veramente una bella mostra, secondo me, come prima mostra. Alla fine l'ha spuntata Sara Russo, artista varesina che lavora con la ceramica, un materiale affascinante e versatile, legato alla manualità alla terra. La vincitrice è stata premiata con una targa fatta a confezionare per l'occasione. Al di là del concorso, ciò che ha più soddisfatto gli organizzatori è la valorizzazione del binomio giovani-cultura. Uno spunto da coltivare in futuro perché, come dichiara il presidente dell'Arcipicchia Diego Castelli, la cultura secondo noi è la prima cosa indispensabile per la vita di qualsiasi cittadino. Grazie. Grazie.